Sale pesi e vasche semi deserte negli ultimi tre giorni, i numeri di defezione variano da struttura a struttura, nelle palestre come nelle piscine, dipende dalla clientela ma in maniera trasversale in tanti stanno districendo le sedute di allenamento. Superiore al 60% anche perché essendoci le scuole chiusi, un'attività come la nostra dove la maggior parte delle persone sono anziane, ovviamente i nonni devono tenere i nipoti, quindi c'è anche questo tipo di problematica trasversale rispetto al famoso coronavirus. Dopo una prima fase di confusione tra domenica e lunedì, dopo l'emanazione dell'ordinanza regionale con cui si è disposto la chiusura di scuole e altre attività, lunedì sono arrivati chiarimenti che hanno dipanato alcune perplessità per gli operatori. C'è molta disinformazione e quindi le persone rinunciano nel venire, credono che le palestre siano chiuse, dove in realtà ci sono dei comunicati della regione con le interpretazioni dei comuni di riferimento che dicono che le palestre possono tenere aperte. Inoltre ci sono tutti i consulenti medici del lavoro che danno le indicazioni sulle attività da fare verso i clienti e verso i propri dipendenti, collaboratori o per ovviamente cercare di ridurre al minimo il rischio di contagio nel caso ci sia. Noi andiamo a igienizzare ogni mezz'ora, ogni macchinario con ovviamente gli additivi che ci hanno prescritto e soprattutto ad ogni stazione c'è il gel a mucchina che permette la disinfettazione delle mani di tutti i nostri clienti. Quindi alla fine abbiamo aumentato quelli che erano già i nostri standard che sono elevati, anche perché abbiamo dei controlli seriati da parte degli enti preposti, e quindi le persone che sono venute in questi giorni stanno decisamente tranquille perché ovviamente vedono che ci sono tutte le precauzioni del caso.